Vuoi dire le tue parole sul papà? Se ti va, se ti va. Intanto vi ringrazio per avermi invitato, per questa bellissima iniziativa. Sì, oggi è proprio un mese da quando papà ci ha lasciati, però mi piace dire che in realtà non ci ha lasciato, perché come dimostra questa manifestazione, lui è presente, l'affetto delle persone è costante e questo ci riempie di gioia e ci permette di ricordarlo sempre con il sorriso, così come avrebbe voluto lui, quindi vi ringrazio. Esattamente, grazie, adesso ti lascio proprio, presenti, mi rimani con un momento di vita.